Una manovra senza precedenti, sia per le risorse messe in campo che per gli strumenti utilizzati. Così è stato definito il bando Rework Buono Umbro per il Lavoro, introdotto dalla legge regionale di riforma del mercato del lavoro appena approvata, che dedica subito 10 milioni di euro, che arriveranno sino a 20 complessivi all'occupazione. Una misura destinata ai soggetti in cerca di nuova occupazione a chi ha perso lavoro e chi lo perderà nei prossimi mesi, con particolare attenzione alla categoria dei NIT, ovvero i soggetti non impegnati né nello studio, né nel lavoro, né nella formazione. I contenuti sono stati illustrati dall'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni nel laboratorio di chimica dell'ITTS Alessandro Volta, reso un'eccellenza nazionale nel campo della formazione professionale dalla dirigente Rita Coccia, prossima alla pensione. Un bando con meccanismi totalmente rinnovati, che puntano a valorizzare le competenze dei lavoratori e a riqualificarli in base all'esigenza del tessuto economico. Con il primo stanziamento regionale di 10 milioni di euro, si stima di finanziare Bull per oltre 3.000 lavoratori. 2 milioni sono destinati all'erogazione di Bull rilasciati nell'area regionale Exmerloni e altri 2 milioni per l'area di crisi complessa di Terni e Narni. Una misura importante, 10 milioni di euro, la misura nella sua complessità ne prevederà fino a 20, almeno 20 e è una misura che vuole introdurre il buono umbro sul lavoro che abbiamo istituzionalizzato nella revisione della legge regionale di Arpal e rappresenta una misura per favorire il rinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che sono fuori, nei soggetti disoccupati, ma soprattutto l'elemento innovativo anche nei cosiddetti NIT. Giovani che non sono attualmente inseriti né nei percorsi formativi né nel mondo del lavoro e che sappiamo rappresentano una piaga sociale perché sono giovani quindi nella fase più creativa e di maggiore energia della loro vita che però sono fuori da qualsiasi costruzione di percorso professionale e vuol dire anche di vita. Quindi 10 milioni che sono rivolti da un lato a favorire l'inserimento o il rinserimento anche di chi è uscito dal mercato del lavoro. In precedenza questa misura si rivolgeva solo a coloro che hanno stati oggetto di una procedura di licenziamento. Oggi si rivolge a tutti i disoccupati che non sono percettori di alcun'altra misura nazionale ma il tema importante è che si prevedono percorsi di formazione, tirocini professionalizzanti per cercare di favorire l'acquisizione di quelle competenze che sono necessarie per entrare oggi sul mercato del lavoro. Il tutto con degli incentivi ad assunzioni che saranno tanto più alti quanto più alta sarà la distanza del soggetto dal mercato del lavoro. Questo vuol dire che cercheremo di soprattutto piemare maggiormente l'assunzione di quei soggetti che sono più a margine del mercato del lavoro, che hanno un sistema di competenze più deboli e che attraverso questa misura noi cercheremo di qualificare in maniera importante. L'altro tema importante è quello dei soggetti anche che sono in cassa integrazione ma in contesti di crisi ormai molto consolidata abbiamo visto che nelle ultime crisi che hanno rivestito il territorio spesso che sono durate anche alcuni anni con la cassa integrazione non sono stati mai attivati i percorsi di riqualificazione professionale. Noi invece vogliamo intervenire prima che sia troppo tardi cercando di favorire la riqualificazione professionale e un veloce rinserimento anche nel mercato del lavoro.